Con la premessa che purtroppo abbiamo avuto un'altra assenza non prevista, non programmata, era previsto per questa sera la presenza anche del consigliere Badiale della quarta circoscrizione che essendo un tecnico ambientale segue proprio professionalmente oltre che politicamente tutta la vicenda della Thyssen. Si scusa anche lui di non poter partecipare, però ci ha mandato una breve memoria che secondo noi abbiamo valutato è interessante conoscere e che magari Simona vieni qui e legge, sono due o tre minuti, sulla questione proprio della bonifica da parte di un tecnico, che è anche politico e amministratore in una circoscrizione della nostra città. Contributo di Marcello Badiali. Io sono un chimico, ho lavorato 40 anni in Fiat, faccio parte di un gruppo civico che si chiama Torino Domani, il cui leader è Francesco Tresso e mi sono interessato a questo evento un po' per la tragedia in sé e un po' per il fatto che quando ho sentito che il nuovo ospedale Maria Vittoria sarebbe stato costruito nel parco della Pellerina, la prima domanda che mi sono fatto come tanti altri cittadini è perché non lo si fa alla Thyssen? Da quel che attestano i sondaggi effettuati fin dal 2009 nella zona Thyssen, il comune, l'ARPA, l'ASL e la proprietà che prima era acciai speciali Terni e oggi è Arvedi, hanno prodotto una grande quantità di documenti in cui sono riportati i risultati dei dosaggi dei diversi inquinanti in varie zone dello stabilimento. Risulta dalle diverse determinazioni dirigenziali che si sono susseguite dal 2009 fino ad oggi che è stata fatta una fotografia per quel che ho letto piuttosto precisa della situazione. Da questi documenti risulta che ci sono due grandi problemi. C'è un problema di inquinamento del terreno, in parte da metalli pesanti e in gran parte da idrocarburi. Per dire che attività di bonifica bisogna fare, bisognerebbe prima aver deciso che cosa fare su quel terreno, perché la legge dice che per tutti i componenti dell'inquinamento di cui stiamo parlando ci sono dei limiti che variano in funzione della destinazione d'uso del terreno. Esistono limiti se ci si fa un'attività commerciale o industriale, dei limiti diversi se ci si fa un parco, un ospedale oppure delle residenze. Questo principalmente perché l'esposizione delle persone che vivono lì varia nella durata. Se ci vivo 24 ore al giorno sono esposto a un rischio per 24 ore. Se ci lavoro 8 ore al giorno posso tollerare anche una concentrazione superiore. Se ci passo saltuariamente posso accettare una concentrazione ancora superiore. Questo è il senso della legge. Ad oggi la destinazione d'uso è industriale. Nel corso di questi anni è stato preparato un documento che si chiama analisi del rischio, che definisce le azioni da fare per poter utilizzare quel terreno al fine di destinarlo ad utilizzi commerciali o industriali. Il giorno in cui si decidesse di cambiare la destinazione d'uso per costruirci sopra un condominio o un parco, questa analisi del rischio sarebbe da aggiornare, nel senso che tutti i dati di ingresso sono validi. Diverse sono le considerazioni da fare per raggiungere i nuovi limiti di inquinamento richiesti. Questo è il discorso dell'inquinamento del suolo, ma è anche vero che, poiché su quel suolo oggi non ci deve andare nessuno, oggi non è necessario fare la bonifica perché quella è una scatola chiusa, non ci può entrare nessuno e quindi anche se i valori rilevati per alcuni inquinanti sono superiori rispetto ai limiti di legge per un insediamento commerciale e industriale, poiché non c'è un rischio, visto che non ci deve entrare nessuno, non si fa niente. Secondo argomento. C'è un inquinamento da cromo esavalente che causa una contaminazione della falda idrica. Per chi non lo sapesse, il cromo esavalente è una sostanza carcerogena a livello 1, il livello più grave ed è una sostanza estremamente solubile in acqua. Cosa succede? Il cromo esavalente si è accumulato nel terreno a causa delle lavorazioni che vi venivano eseguite sopra. Tutte le volte che il terreno viene per qualche motivo bagnato, l'acqua scioglie il cromo presente e lo trascina in falda e la inquina. Negli anni sono stati realizzati dei pozzetti per eseguire i campionamenti in molte aree per capire come l'inquinamento varia nella superficie della fabbrica. C'è un punto di prelievo che risulta particolarmente critico, mentre negli altri i valori rilevati sono prossimi o inferiori ai limiti prescritti. Uno solo è molto critico, molto probabilmente il punto principale di sversamento della sostanza inquinante. Il problema del cromo esavalente è un problema molto grave e difficile da risolvere, perché quando studiavo io, e parliamo di tanti anni fa, 30-40, si diceva che una falda inquinata da cromo esavalente non si poteva bonificare. Nessuno aveva ancora inventato il sistema per togliere il cromo esavalente. Oggi ci sono dei sistemi, che sono quelli che si sta cercando di applicare, che io non ho studiato e non so dirvi quanto siano efficaci, ma temo che molto efficaci non siano, lasciatemi dire così. Non ho delle evidenze sperimentali di quanto siano efficaci questi sistemi, poiché non sono riuscito a trovare nella letteratura documenti che lo dicano. Se si tratta il terreno con una sostanza riducente, il cromo può passare da esavalente a trivalente e non essere più solubile in acqua, e quindi sta lì dove è nel terreno. Però il cromo è più stabile nella forma esavalente che nella forma trivalente. Temo che così facendo comunque rimanga il rischio che nel tempo, a causa dell'intervento di agenti ossidanti, si possa avere di nuovo l'ossidazione a cromo esavalente e che così il problema si riproponga. Dalle analisi fatte dal 2009 risulta che in un pozzetto la concentrazione di cromo esavalente è quattro volte superiore al limite permesso dalla legge. Nel 2021 gli accordi tra comune e acciai speciali terni dicevano che si sarebbe fatto un piano di messa in sicurezza operativa per quel che riguarda il primo problema, cioè idrocarburi e inquinamento del terreno. Un piano che dice qualora si volessero fare attività commerciali e industriali si devono fare queste cose. Questo piano di messa in sicurezza operativa è il piano che avrebbe dovuto essere presentato il 30 giugno 2023. Verbalmente mi è stato detto che è stato consegnato. Vista la gravità della situazione dell'inquinamento della falda da cromo esavalente, invece non si è passati attraverso lo strumento della messa in sicurezza operativa, ma da quello della messa in sicurezza di emergenza, perché la cosa è più grave. Non voglio dire urgente perché parlare di urgenza di una cosa del 2009 nel 2023 fa un po' innervosire. Nel 2021 è iniziato il piano di messa in sicurezza di emergenza, che è poi proseguito nel 2022 e nella lettera in cui acciai speciali terni chiede di dare una proroga dal dicembre 22 al giugno 23 per la presentazione del nuovo MISO, cioè il piano di messa in sicurezza operativo. Scrive che anche la messa in sicurezza di emergenza proseguirà nella primavera del 2023. La proroga viene concessa con la determina dirigenziale 82, senza mai dare un'indicazione di quanto le azioni realizzate siano state efficaci. Si sa che nel 2009 la concentrazione era di 20 microgrammi litro in falda contro un limite di 5, ma noi non sappiamo oggi, dopo tre anni di messa in sicurezza di emergenza, se siamo ancora a 20, se siamo andati a 18, se siamo a 24. Il fatto stesso che il piano di emergenza dal 2021 sia stato procrastinato al 2022 e proseguito nel 2023 e non si sa se proseguirà anche nel 2024, fa presupporre che la concentrazione di cromo esavalente non scenda. Però questa è un'ipotesi, altrimenti però non si spenderebbero ancora i soldi per un'attività che ha raggiunto i limiti di legge. Quindi vuol dire che in questi tre anni di attività questo livello di cromo da 20 non è ancora arrivato a 5. Quello che secondo me sarebbe importante capire è se il 20 è diventato 7 e allora è un conto, ma se il 20 è diventato 18 dopo tre anni vuol dire che ciò che si sta facendo non è efficace. Vorrei però anche tranquillizzarvi perché non voglio fare del terrorismo. La legge prescrive che ci siano dei limiti nel punto in cui avviene l'inquinamento. Quindi si va a misurare nel pozzetto l'inquinamento della falda e lì trovo che è 20 microgrammi litro contro i 5 previsti. Molto probabilmente nella falda 200 metri dopo di cromo ne ha pochissimo perché c'è un effetto diluizione. Ci possono essere mille altri fattori che riducono questa concentrazione prima che arrivi in Dora o in Po. Molto probabilmente quel cromo si diluisce moltissime volte. Ma la legge dà delle prescrizioni e dice che il limite nel punto di prelievo deve essere inferiore a 5 microgrammi litro. Dalla documentazione ufficiale risulta che nei rilievi fatti dal 2009 e poi nel 2012 la concentrazione era di 20 microgrammi litro. Sarebbe un grande successo riuscire a sensibilizzare tutti quanti. Nella riunione che abbiamo fatto in comune quando è stata presentata la mozione presentata dalla consigliera Ravinale e firmata da tutto il centro-sinistra 10 marzo 2023 la stessa assessora Foglietta si è detta assolutamente d'accordo nell'intervenire ma questa sua volontà deve tradursi in fatti.